Allora, esperimenti di uso della musica in OpenSIM vedremo come trasformare certi esperimenti sonori e poterli riapplicare appunto in OpenSIM qui facciamo un esempio con suoni piccoli che vedremo che sono l'aspetto più semplice se andiamo su un sito web che ci fornisce degli esempi esempi di suono vediamo che qui questo sito ad esempio ci permette di sapere quali sono i suoni forniti da un oboe quindi cliccando qua vediamo come suona l'oboe questa nota come suona quest'altra nota e così via supponiamo di voler ripetere questo esperimento in Second Life quindi clicchiamo e qui sappiamo che facendo Save Link As viene salvato un suono in formato MP3 il formato MP3 è un formato che purtroppo non va bene per Second Life OpenSIM e quindi dobbiamo avere un sistema per trasformarlo in un formato compatibile il formato compatibile se voi andate sulla documentazione nel play sound che è il comando dello scripting che permette di fare i suoni vedete che i suoni ecco vedete che i suoni possono essere al massimo di 10 secondi e inoltre ci sono dei vincoli sulle caratteristiche del suono quindi in particolare deve essere un adesso qui in questa pagina non è scritta ma fondamentalmente deve essere un WAV a 44100 adesso non riesco più a trovare il canale la pagina in cui lo spiega per farlo la cosa più semplice è che vi scarichiate questo programma si chiama Audacity che è il programma OpenSource e quindi può essere scaricato eccolo qua da SourceForge abbiamo in questo momento la versione 2.05 ce la scarichiamo e vi farò vedere come usare Audacity per convertire questo suono MP3 in un suono WAV ok quindi adesso ci installiamo il programmino quindi apriamo lanciamo l'installatore installiamolo in italiano io di solito preferisco installarlo in inglese ma per voi mi adeguo avanti avanti ce la installiamo avanti installiamo ok quindi nel momento in cui Audacity è installato ok quindi andiamo ancora avanti lo lanciamo perfetto e ci viene questa finestrella non preoccupatevi noi useremo molto poco di questa finestrella perché ci limiteremo ad aprire andiamo ad aprire il file il file ultimo che abbiamo messo eccolo qua 246.mp3 lo apriamo quindi lui ce lo apre quindi qui volendo possiamo anche mettere che ce lo suona e poi dobbiamo esportarlo adesso vediamo se riusciamo a metterci lo esportiamo in 16 bit cm adesso lo verifichiamo lo salviamo sotto c 2.246 le opzioni wow bene proviamo a vedere 16 bit pcm se ce lo fa quindi lo salviamo qua 246 e salviamo questo file e vediamo se effettivamente ce l'ha fatto sì dovrebbe essere buono perché la frequenza è 44.100 quindi controllate appunto che la frequenza sia 44.100 a questo punto occorre andare in open sim e proviamo a fare un upload del sound free quindi andiamo su c andiamo su le date ed ecco che abbiamo 246.wav quindi se l'abbiamo salvato con le caratteristiche giuste quindi wav 16 bit 44.100 quando facciamo open e poi lo carichiamo lui dovrebbe scaricarlo ed ecco che abbiamo il file 246 e questo qui è il suono dell'oboe oboe oboe se noi lo clicchiamo vedete che si sente e lo suona però noi vogliamo metterlo dentro un oggetto per metterlo dentro un oggetto vedete che ci ho messo uno script lo script si limita semplicemente a caricare il suono che trova dentro e quando viene toccato fa il play di questo suono quindi prendiamo cancelliamo il suono precedente e ci mettiamo il suono dell'oboe ok quindi a questo punto se io clicco su questo vedete che quando viene cliccato lui ci dice il suono guarda qui c'è un debug che togliamo quindi c'è semplicemente questo script molto semplice quindi adesso tutte le volte che lo clicco sento quel suono di quell'oboe quindi volendo si possono scaricare tutti gli altri suoni dell'oboe e creare ad esempio una struttura di oboe e sentire il suono purtroppo l'altezza del suono non è altissima però insomma può essere sufficiente per fare alcuni esperimentini insomma allora per questo è tutto vedremo invece nella prossima spezzone come usare oltre a audacity invece un altro programma per poter far sentire una musica più complicata quindi una musica che sia più lunga di 10 secondi arrivederci